Si sarebbe dovuta tenere ieri la prima conferenza dei servizi propedeutica alla riapertura dell'impianto per l'eliminazione di rifiuti pericolosi e non di San Sago nel comune di Tortora in provincia di Cosenza. La struttura, che si trova proprio al confine tra la Calabria e la Basilicata, ha in teoria tutte le autorizzazioni in regola, ma ci sono ancora aspetti da chiarire, e legittimamente i sindaci del territorio, calabresi e lucani, chiedono ulteriori approfondimenti, è quanto afferma in una nota Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria. Se ci sono nuove verifiche da fare per dissipare dubbi o incertezze, queste vanno effettuate con il massimo rigore e con grande attenzione. Non si scherza con la salute dei cittadini e l'ambiente va salvaguardato con ogni mezzo da possibili contaminazioni o processi inquinanti. Per queste ragioni ho dato mandato ai miei uffici di rimandare ogni decisione in merito alla riapertura di questo impianto. Il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Tutela del Territorio della Cittadella ha dunque sospesso la conferenza dei servizi, chiedendo un approfondimento ulteriore e un parere all'Avvocatura regionale. Solo dopo questi passaggi formali decideremo il da farsi. Dispiace invece che la Regione Basilicata non abbia condiviso con noi questo percorso e abbia deciso di disertare la conferenza, dando così implicitamente l'ok alla riapertura della struttura di San Sago, senza pretendere nuove verifiche.